In questa edizione di Completely Short Arrestato il marito di Nicola Stargeon Il servizio wifi di Vodafone di nuovo operativo nelle stazioni di Londra Introdotti al London City Airport gli scanner 3D Un picnic di Pasqua per gli italiani di Edimburgo L'Istituto Italiano di Cultura di Londra presenta Natura Morta and Other Works Scozia Arrestato il marito di Nicola Stargeon Ieri il marito dell'ex primo ministro di Scozia è stato arrestato Peter Murrell, ex dirigente dell'S&P, è stato preso in custodia dalla polizia per un'indagine sulle finanze e sui finanziamenti del partito Precisamente, Police Scotland sta indagando su 600.000 sterline spese per motivi diversi da quelli elettorali Nicola Stargeon nel mentre ha negato di essersi dimessa per via delle conseguenze che avrebbero potuto verificarsi con le indagini Metro, il servizio wifi di Vodafone di nuovo operativo nelle stazioni di Londra Il servizio era stato interrotto a giugno 2021 suscitando non poche polemiche e dibattiti Ora la situazione para essersi risolta per i clienti Vodafone che possono nuovamente navigare su internet sulle linee della metro Per l'occasione non è stato fatto alcun annuncio ma molti sono stati gli utenti ad accorgersi della ricomparsa della rete sull'elenco di tutte le reti wifi disponibili Viaggi Introdotti al London City Airport gli scanner 3D Per l'aeroporto ad est di Londra sono finiti i giorni della sperimentazione degli scanner 3D Ora i controlli verranno gestiti esclusivamente dai nuovi scanner in ogni corsia I passeggeri avranno finalmente la possibilità di caricare il bagaglio sul nastro senza preoccuparsi dei liquidi di vario genere al suo interno Entro il 2024 tutti gli aeroporti del paese dovrebbero adeguarsi alla nuova tecnologia Scozia Un picnic di Pasqua per gli italiani di Edimburgo Il 22 aprile a Edimburgo dalle 12.15 si svolgerà un picnic pasquale per la comunità italiana ad organizzarlo la Girotondo Italian School L'evento è aperto a tutta la comunità e alle persone interessate La location scelta per l'occasione è il Sandial Garden presso l'Inverlith Park Per ulteriori informazioni visitare la pagina Facebook della Girotondo Italian School Arte L'Istituto Italiano di Cultura di Londra presenta Natura Morta and Other Works Il 12 aprile alle 18.30 sarà inaugurata la mostra di Paul Caldwell presso l'Istituto Tra i presenti anche lo stesso artista Caldwell è profondamente legato all'Italia avendo come punto di riferimento l'arte di Giorgio Morandi Infatti al centro delle sue opere mette gli oggetti soprattutto quelli di uso quotidiano La mostra ricca di stampe di natura e morte sarà visitabile fino al 5 maggio Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell'Istituto Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell'Istituto